Io ho saputo che avevo una mamma quando avevo di fiamma, non sapevo che si stesse. Che se vuoi fare? Vuoi dire no? Lo so. Giorgia si è dimenticata di dirgli una cosa importante. Non si vede perché è magrissima sua figlia, però è incinta. Ok. Lei ha voglia di vederla? Sì, ok. Tanto. Maria De Filippi, c'è posta per te. Domani alle 21 su Canale 5. Twinings. Dal 1706. Il tè inglese bevuto dagli inglesi. C'è Diego. Attivati. Attiva un numero team e con la ricarica chiami e videochiami gratis fino a 500 minuti verso team. Adriana, guarda che idea. Grande. Per anni la nostra casa è stata il mondo. Ci siamo fermati per amore. Grazie, Motuorancio. Dalle selezioni speciali Bonduelle, trio freschezza. Solo foglie intere perfette di lollo verde, lollo rossa e foglie di quercia. Difficile resistere. Con trio freschezza, cresce la voglia di Bonduelle. Averna. Il gusto pieno della vita. Bello, eh? E queste sono le fedi. Ho già pensato a tutto. Lavatrice. Climatizzatore. Due TV. Una per i bimbi. E una per vederci le partite. Ma tu non hai neanche la fidanzata. Tranquilla, mamma. Ho due anni di tempo per trovarla. Parti in vantaggio. Da Synergy fino al 9 gennaio prendi subito quello che ti serve e paghi in due anni con le rate che vuoi tu senza interessi. Senza interessi! Synergy. La grande catena dal volto umano. Nuovo Dash bianca purezza con bicarbonato. È sempre desiderato questo detersivo. Ottengo il risultato che voglio. Qual è il risultato che volevo? Il bianco che è imbattibile. Il pulito profondo. E l'igiene poi. Cosa pensa di questa idea del bicarbonato e dentro al nuovo Dash bianca purezza? Per me è il massimo. Oggi tutte le banche sono su internet. Io ho voluto di più. Ho voluto una banca con un sito internet completo, facile da navigare e personalizzabile come vuoi tu. Per entrare in banca quando vuoi e operare in tempo reale da qualunque luogo. Sei pronto? Banca Mediolano. Costruita intorno a te. Nel mio intimo c'è Cilli. Voglio ogni giorno una vita diversa. Voglio protezione. Voglio ballare. Voglio freschezza. Voglio Cilli. Cilli Intima Gel mi dà freschezza e vitalità a lungo. Oggi anche Cilli Intima Delicato. Nel mio intimo c'è Cilli. Canta tu Music Station. Più di un video karaoke. Una prestazione multimediale con monitor integrato. E puoi cantare dove vuoi senza tv. E tante nuove compilation da cantare tutti insieme. Canta tu Music Station. Se canto io, canta tu. Fiat Idea. La monovolume compatta. George. Not included. Scopri la magia con i cellulari Vodafone Live. Vodafone. Tutto intorno a te. Lascia stare. Amore, il piano è orrendo. Io voglio computer nuove. Mimma, io voglio un televisore nuove. Basta, basta. Cosa è questo? È una bottina a me. So, 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 so. Personal Credit. 840-099-099. Un prestito. Chiamo subito. Ah, con una piccola rata ho realizzato i nostri sogni. Personal Credit. Completa i tuoi sogni. Armani Black Gold, il nuovo profumo maschile Giorgio Armani.